Esiste ancora Mr. Marra e i suoi pareri Marra, ma fa fa culo Un decerebrato, cerebrato Una persona meschina è un bullo del cazzo Che fa un podcast Ragazze podcast Sono criminali, vanno fermati Che peos Detto questo Cigalone ci vuole querelare Ma de che? Cigalone querela sto cazzo Il mondo è un posto davvero orrendo E' davvero orrendo, cazzo Sembra che a tutti stia bene, capisci? Ma che stai a fa? Ricordati che i squali stanno arrivando Hello Closha E benvenuti In questa nuova Trasmissione Se avessi le forze lo farei anche io Ma Le forze che ho io sono queste Lo faccio vedere Intanto siamo in piano hype train E qua, grazie mille per il sub Dai, 36 mesi 10 mesi Dai, dai, dai Stiamo al top Stiamo Inizio del weekend Qua tocca rifucillare Attenzione, 36 mesi Grazie Io devo fare qualcosa Perché ogni lunedì che me sveglio C'ho delle fitte proprio di rabbia Proprio che voglio uccidere tutti Ellie, grazie per i cinque Grazie Così si inizia Così Così Con le giftate Quelle importanti Quelle serie Vaffanculo a tutti Chi si offende Chi caga il cazzo Chi si oppone Voi non siete niente E noi facciamo quello che vogliamo Perché sappiamo quello che facciamo O sbaglio Lo sappiamo benissimo Quindi No respect for the Ops Vengono definiti Da questi modai Dai Maranto Ma che vuol dire Ma che vuol dire Mi lo spieghi una volta Perché ho la testa tagliata Marco Tu lo sapevi Si mostra cose degli Ops Che io l'ho sentita da Rondo Ma non sapevo bene Questo termine Gli Ops Gli unici Ops che rispetto Sono Black I Black Ops Solo quelli Ci tieni comunque alla causa Sei una persona non razzista All Black Ops Matter Soltanto quelli Black Pure anche quelli Tutte le Grazie Bar Esiste anche White Ops 37 Dai Ma esisteranno in qualche modo Anche 14 grazie Oddio mio Ragazzi Non distruggeremo lo studio Ogni singola volta Come si chiama Marco? Io da qua non vedo però Spacco tutto No la staglia mia Lasciate a stare stavolta Aspetta Simone Mi devo mettere al posto tuo Che qua mi sento incastrato No no Devo Aspetta Marco Ho paura Ho paura Phantom Phantom Grinzly Grazie No Phantom Raz Girls 1 Grazie 25 Sono una cifra No Metto qua Metto qua Metto qua Metto qua Sai che vedo meglio Sembra una cazzata Ma No si è vero Che è quello? Oddio No Così Diciamo che Ogni giftadina Diamo un calcio ormai A quel monitor Che poi è pure coperto Da Soneco Inutile Rotto Messo lì Ma se lo staccassi Ah eccola Grazie Phantom No regà Mamma mia Fortunati voi Ringraziate Dio Che è quella De prima Non so che mi stava passando Per la testa Vabbè Ma andiamo Ah è quella De prima Allora no Vabbè Ci stanno Sempre per parlare Di ops Gente che si offende Urge Reuocino Reuocino Perché praticamente L'altro giorno Fra una roba in alta In una live In cui parliamo Dei altri Ci siamo concessi Di leggere Un commento Dei morta Visto per caso Sotto un video Linkato per caso Delle tizie Che buttavano la zuppa Sulla Gioconda E questo Ha scaturito Una reaction Però di cui Non abbiamo il video Però ci hanno scritto Mi ricordo che c'era Un commento di morta Dove diceva Che comunque La Gioconda Vale due milioni Valeva un sacco di soldi E noi abbiamo commentato Questa cosa qui E c'è scritto Provo imbarazzo Per loro Partendo dal fatto Che è giustificatissimo L'imbarazzo Lo posso capire Ma pur io Spesso anche noi proviamo imbarazzo Per noi stessi No ma secondo me Se riferiva a quelle Pure io Ho provato imbarazzo Verso due signore Che lanciano la zuppa Contro un quadro E poi si mettono così Come Adolfo È una cosa comunque Anche contrastante Ma sì ma Il discorso è Era così pesante La reaction Che abbiamo fatto Non lo so Vediamo Un attimo Di rivederla Lei diceva Quattro persone Almeno ci dovrebbe essere Una persona Ogni quattro Che era Cioè pensava Non c'è fosse una sicurezza Che controllasse la Gioconda Ma sì ma secondo me Era una roba Molto easy Grazie per i 32 Però ho detto qualcosa di male La vediamo Bellona Pecorella Perché comunque Noi siamo dei signori E non va bene Che una Una signorina Provi imbarazzo Nel guardarci Cioè dobbiamo fare qualcosa Il nostro studio Deve essere Anche signorina friendly Anche la nostra trasmissione Perché dobbiamo raggiungere Più pubblico Possibile No quindi Capiamo un attimo Dove abbiamo sbagliato Mi dite un secondo Se Se è meme Mcdave Se so io Che so lontano Se adesso che so vicino Un attimo Un attimo di serietà Se no al chitano Mi andate nel pane Io l'ho alzato un po' Ok Un pochetto Devi parlarci così Ok ok Perfetto Adesso potete continuare Sono distratto dai sub Mandate Armani Comi E mentre leggevo Io ho alzato Mentre leggevo In chat I vari sub Ho letto pure un messaggio Che dice che Lei ne ha parlato Nella sua live Ha già parlato A noi A noi non ci è arrivato Proprio niente Anzi Io neanche credevo Che streamasse Io ho scritto Quindi fosse vero Mandatecelo Insomma Noi intanto Possiamo commentare Questo Ma più che altro Si è creato Questo link Perché nessuno Si ricordava Che cazzo Avevamo detto Ma io personalmente Neanche l'argomento Ma più che altro Anche ora Che mi è rivenuto in mente L'argomento Io non ricordo Cazzo C'entrassi morta Forse aveva lasciato Un commento lungo Sotto il post Che avevamo visto Credo Grazie 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 Respicabile Grandissimo Poi siamo pronti Anche a fare ammenda A dire Oh Ammenda A brutta ammenda 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 Aspetto Per il tipo Si tradici Si è basato E Gianluca Qua manco c'è stavi Forse per questo Non ti ricordi No no c'è C'è l'ero collegato No a Gianluca No ma Ma mi ricordo Mi ricordo Ma c'è stavo qua Mi ricordo voi Che commentavate lei Che aveva scritto Sto papiro Mi ricordo Questo saluto Molto nazista Ricordo tanto Seconda cosa Bravo C'è la divinità No c'è la devo Non ridare Cioè non è che C'è la devi Ah ma la zuppa Io pensavo Anche Vladi La gioconda Ok è vero Cioè Vediamo il commento Di come c'è la divinità Tu come intendevi la gioconda Ma no Pensavo la zuppa Ah ok Ci darà sicuramente Ah no Pensavo che ero io Che avevo zoomato Quei sbagli Ma atto condannabile A parte Manda indietro un attimo Perché i miei commentini So che possono essere No no Ok è vero Cioè Vediamo il commento Di morta Che dai Ci darà sicuramente Tanti spunti Ma atto condannabile A parte Non so perché Ok Ma non credo Stiamo parlando Della gioconda Probabilmente L'opera del valore Più alto E beh È inestimabile Al mondo Vale tanti soldi Quel quadro Io mi chiedo Come Sia possibile Imbrattarla Con così tanta facilità Beh È proprio È proprio per quello Perché è uno dei quadri Più più famosi del mondo Cioè è chiaro No Tu Nell'ottica di queste persone Hai un messaggio Che devi dire Impellente Non è che vai a Imbrattare il quadro Ma poi non l'hanno imbrattata De tu zio Spaggiari Ovviamente Un attimo pausa Spaggiari A me sembra Di aver detto anche Cioè Non è che ho detto Ah ma che ha scritto I morta È un'obiezione Sul ruolo Dell'attivismo Anche nel mondo Dell'arte Io so che lei È una persona Molto appassionata Di storia Dell'arte E quindi Credo che abbia Anche gli argomenti Se vuole Dato che è stata lei In primis A lasciare un commento Su questa questione Abbia gli argomenti Per rispondere Nel merito Di una cosa Che io non è che dico Perché è morta Poteva scriverla pure Pincopallina Per me è un argomento Interessante Ed è per questo Che lo porto Al cerbero Poi se uno si offende E si imbarazza Che devo fare Mi dispiace In diretta Sono quelli sotto Hanno aggiunto Un altro Sprazzo di colore Su un'opera Già di stentare Ma poi il senso Della metafora loro Qualcuno ha detto Ma Dave è pazzo A dire che Buttare la zuppa Sulla gioconda È come un remix Aggiungere altro colore Su un'opera Ma questo è Un argomento Che è stato Trattato spesso Specie quando C'è stata tutta quanta Quell'onda Desta roba Qua Ricordo È stato un periodo Che la gente Lanciava roba Contro le opere d'arte E molti hanno Detto questa cosa Ma a parte Che è stato fatto Nell'arte contemporanea Io E lo trovo Deprecabile E inutile Adesso Mi faccio nemici Pure i fan dell'arte Contemporanea Quelli che fanno Che tagliano le tele Che tirano le banane Che mettono i secchi Uno in cima all'altro Fanno Oh È caduto Come mai È caduto Perché l'hai messi male Però Perdonami una cosa No Se io Ho l'intento Di migliorare l'opera Cambiarla Eccetera E gli lancio Qualcosa sopra Quello è esattamente Sta roba Che sta via di te Cioè Uno che vuole Fa una nuova arte Lanciando Però Se io lo faccio Perché C'ho Che ne so Intenti brutti Oppure Megader gelato Ha cioccolata Sopra la tela Però non ho Quell'intento L'ho comunque fatto Cioè nel senso Ho tutto o niente Perdonami Per qualcuno potresti Aver creato arte Cioè nel senso Allora Una persona Che Che fa qualcosa Tipo Il ragazzo cinese Che si mette di fronte Ai cari armati In piazza A DNA man No Si mette là Fa un atto De protesta Qualcuno fotografa Quella cosa Quella foto Diventa Arte Dave ma ha fatto Una cosa illegale È illegale Scusate Ecco ma secondo me È questo il motivo Perché lei Si era piana Allora ci va Eh no Cioè Fanno più un cazzo Il fatto che non è stato Sporcato nulla È quella la cosa principale Aspetta aspetta È tutto nella testa di morta Sì 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 Ma è quello È il merito Questo è il merito Poi sono le cazzate Poi c'è il merito Bodyguard Il merito No Andare nel merito Della questione Dico A parte che con tutte Ste voci Non ce sto a capire niente Pare che sto a parla Corchitano del passato Quello del presente Sì io sono confusissimo Pure voi in studio No vabbè C'è stato un momento Non so chi sono io Che dice Ma quel quadro Vale tre milioni Eh vabbè Vale tre milioni Faceva ride E noi l'abbiamo fatta Ma mica È stato un po' An cannivale No quelle cose là Cioè noi l'abbiamo presa normale Un po' Non è gruppo Cerbero Il VOD Ma è proprio È proprio un gioco stupido Prendere solo una Una frasina Provocatoria Facendo la voce del pensiero Eccola qua Il VOD L'abbiamo tirato fuori Una gag Non parla così Effettivamente più importante Un quadro Che lottare per il pianeta Dove viviamo Ma il quadro Vale tre milioni Il pianeta Non vale niente Non fa pausa Non parla così Non parla così Io qua stavo a fa Ovviamente il classico No Io ho Ho espresso Un pensiero Cioè quella Quella cosa là Che secondo me Entrando nell'ottica Dell'attivista Ovviamente Vale più il pianeta Terra Che il quadro Che neanche ha sporcato Quindi solo gesto Puramente simbolico E poi mi sono fatto La contra-argomentazione No È quello che Che facciamo qui Ma è la classica Vocetta Che io cito sempre De Matteo Montesi No Sì E buttaci te te Buttaci te te Cioè proprio C'è una roba Era innocua Ti fa il contraddittorio Abbiamo detto No ma lei non parla così No no Ragazzi C'ho ragione Ma vogliamo vedere Il VOD Stavate a dire La voce della sua coscienza Ma poi ci dicono sempre Che fami i dissing Ma ricordo C'è la voce della sua coscienza Voce pensiero Sì ricordo tutte ste cose Io non voglio vedere il VOD C'è nulla di male Ah vabbè faceva ridere secondo me C'è Marco che vuole vedere il VOD Di I Morta Poi ci dice sempre Che famo Tanti dissing Ma non è un dissing È una curiosità Una curiosità Però A me non me ne frega un cazzo Però se vogliamo guardarlo Se vogliamo guardarlo Si guarda Se no sti cazzo Oddio che è questo Non è che muoio Questo però È più importante Che è Oh no I carabinieri Col Mac pure No Allora voglio capire una cosa Voglio capire una cosa Allora questo è stato Uploadato Un giorno fa Adesso Io ho il sospetto Perché questo video L'hanno distrutto Ormai è finito L'ultima cosa 20 minuti È possibile Adesso voi Che magari siete più preparati di noi Dovrete dirci Se è l'ennesimo trick Per mettere una roba inedita E poi alla fine Tutto un best off Di tutti gli altri carabinieri Che hanno fatto Che questo è il mio sospetto Che loro ultimamente Stanno a fare sempre così Tutti riapplood Oppure Sono a 16 minuti Proprio belli freschi De roba nuova Vogliamo capire? 20 minuti È molto strano No ne guardiamo un po' a salti Dai Vediamo un po' Il Mac cosa Si viene fermato dai carabinieri Secondo me 20 minuti di video originale Ci metti due mesi Cioè Poi per la qualità Alla quale ci hanno abituati Pantellas Magari Magari l'hanno fatto Allora Secondo me Io voglio ipotizzare Che ci sia qualche gag Su qualcosa Che può introdursi O meno Entrare Magari Tu che dici? Secondo me non penso proprio Non penso proprio Ottimo Mi piace che già approcci così Ma tipo Già sta scena Io mi ricordo No questa è nuova Questa è nuova Ti è successo ieri sera Simu No non è possibile Sei stato fermato Dai finti carabinieri Pantellas Però eri così ubriaco Mi ricordo un video Che ho già visto Era un incubo De ieri notte Grazie per il Prime No mi sembra un video Che abbiamo anche già Reactato al Cerbero Oh sto svalvolando Ormai Perché secondo me Iniziano tutti davanti Si iniziano tutti simili Stanno loro così De fronte Lo sfondo diciamo Che è abbastanza Monotono Un palazzeb 89 No quello sfondo Capito? E volevi? Si si Che strappa i ramoscelli Che se gira E strappa i ramoscelli Capito? Bellissimo Mi mesate quello sfondo là Vai Ci siamo Va Buongiorno gente Minchia che culo Patet Lui è bravo Lui è bravo Ragazzi a me Mi fa tagliare Poi ricordiamo Che è un avvocato Il Mac C'ha sto switch Ah un avvocato Lui è un avvocato Nella vita Ma te l'ommaggini Che si deve difendere Ma comunque Se mette così Fa il meme No Tipo noi Quando parlavamo Con quella voce là Tipo ai Aiutatemi Nel senso poi Switch ha capito L'avvocato civilista Obiezione Vastronore Entra Un pezzo prof Il mio cliente Entra Un pezzo prof Non puoi il try È assurdo Che faccia ancora ride A me fa sempre ride A me fa tanto A me basta guardarlo in faccia Pure se è serio Metta ride Io all'inizio lo diamo Di Ciancianguilla Questa sera Abbiamo già Il content preparato Dove ovviamente Saremo Riverenti Cioè Che video si parla È un video nuovo Tipo me sa La storia di Di Pre Ah Interessante A noi piace L'avvocato Di Pre Piace Ciancianguilla Poi è una cosa Che ho seguito pure tanto Diciamo che Tra le prime cose Che ho visto su Youtube Ma penso questo Pure Simone Non so voi Erano proprio le cose Che faceva Andrea Di Di Pre Tutte quelle varie interviste Quelle cose lì Fino Al declino Da quando ha smattato Poi Al volo al volo Non erano le primissime Domanda a giro Personaggio più simpatico E divertente Scoperto da Andrea Di Pre E perché Vai Simone A me ha sempre fatto ridere Spaggiari Lo dico sempre Il mio preferito Mi piace proprio il mood Spaggiaresco Cosa rappresenta per te L'arte Niente Me l'hai fatto conoscere Mi sono anche rotto il cazzo Mi sono andato anche nella live Quella su Imortal No la live su Imortal Quella dove abbiamo visto Il video di Imortal Ha detto Spaggiari Tuzio Spaggiari Quello è il mio A me La nipote di Kennedy Era lei? Ah Sara Kennedy È sempre lui Spaggiari Spaggiari me l'ha fatto Conoscere Simone De recente Lo metto pure Fra i top Però non lo conoscevo All'epoca Giuseppe Simone C'è sta Muniz Monella Monella Però regà A me la cosa Che è diventato Popo meme Non l'ha scoperto Di pre Comunque Beh sì Giuseppe Simone No no Giuseppe Simone Giuseppe Simone Era strafamoso Già da Già anni Con i suoi video Su Facebook Ah è vero Perché lui metteva Quelle cose Sui da solo Che cercava una donna E poi ha fatto La roba Contra di pre Allora Vabbè allora Questi qua erano Dei nomi Tipo delle mentioni Onorevoli Il mio Rimane Osvaldo Paniccia Come ho riso Purtroppo Perché poi E poi ero piccolo Quindi diciamo Riposi in pace Esatto Diciamo che Faceva ridere Purtroppo Anche perché Stava male Poi quella cosa C'è Pensi dopo anni No tipo Guarda quante risate Sono fatto Quello poraccio Stava a morire Stava male Però raga Quell'intervista Fa ride Volevo dir Paniccia Fa troppo ride Qua roba Su Paniccia Marco Sei una persona Orribile Ma me l'hai fatto Conoscere te Infatti Paniccia Me l'hai fatto Rifatto con l'intelligenza Artificiale In inglese Faceva troppo ride In inglese Io l'ho visto prima In inglese Che in italiano E ho riso da morire In inglese L'arte è una cosa seria Molto seria Com'è che era in inglese Ma con l'intelligenza Ti hai fatto in inglese Serious Serious The artist Serious Troppo ride È tipo Batman Se vuoi fare in inglese Secondo me è tipo È tipo Batman diventa È tipo il buon Thomas No Marco Spaggiari è quello Che è pure un po' incazzoso Che fa Ma che cosa Mi vuole mettere nel culo Il microfono Che mi volevo mettere nel culo Sì sì E poi andate via I caccia Sì andate via Cosa vuoi Andate via L'artista come dovrebbe essere Ragazzi Veramente Allora io Vi dico la mia Potrei dire Sarebbe facile Dire il più grande di tutti Il Goat The greatest of all time Cioè Bello Figo Però è troppo scontata Perché comunque Bello Figo Ricordiamoci che Arriva ai fasti Delle cronache Da di pre Inizialmente sì Inizialmente sì Però Però aspetta Metto Innanzitutto Menzione d'onore Frankie Commando Perché è stato il Fede Rossi Più divertente Della sua carriera Tutto il resto è Poca cosa Però Frankie Commando Faceva veramente ridere La cosa più bella Che ha fatto in vita sua E Vabbè Il Puma Secondo me Su tutti Mossa se voglio Contro mossa Se vuoi Ma che Cioè In un'impresa Perché da quello che Ho osservato io Vorrei sentire pure La vostra Quando tu spammi Troppo un meme Una certa rompi il cazzo Diventi pesante No Cose che non campano Tanto Il Mac Con sta cosa E entra Guarda il trapezio Che la sta spammare In vero simile Praticamente 90% delle volte Spara solo quello Solo quello O ancora Non ha rotto il cazzo E ancora Fa ride È impressionante È una cosa rara Se vuoi sapere la nostra No Cioè a me Ma rottercazzo Aspetto solo che Che scemi Questa cosa Sì Per quello io dico Che non ha rotto il cazzo Perché per me Dopo un po' È ovvio Che diventa un po' Pesante la roba E spero sempre Che si trova qualcosa De nuovo Ma oggettivamente A me fa ride Cioè pure mo Se me fa entra Io mi metto a ride Capito Non è che dico Basti Hai rotto il cazzo No esatto Esatto No 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 Infatti Non è che ha rotto il cazzo Semplicemente Cioè nel senso A parte che non mi ha mai fatto Estremamente ridere Però se vogliamo proprio Analizzare Come si No assolutamente Sono nel torto March Ma se vogliamo Analizzare Come ci si comporta Se si diventa Un meme su internet Perché alla fine Lui appunto Come abbiamo detto In quanto Avvocato Presumo che ha condotto Un'esistenza Diciamo nella norma Credo Fino a mo E poi è diventato Un meme di internet Potremmo tipo Chiedergli Come Come sta facendo A monetizzare E a sfruttare Tutta questa Questo hype Attorno a sto personaggio Poi serate in discoteca Sì Poi Credo che Abbia vita breve Proprio fisiologicamente Sta cosa Perché tu Non è che stai Stai spremendo Un frutto Che ti sta dando Un po' di succo Però A una certa Entra 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 La ripetizione Poi diventa Rumore bianco Ma per forza Vale per chiunque Da bucio De culo Devi passare E sti cazzi C'è un po' Tutto il tempo Con la busta Io facevo a Veronica Signore I limoni Non so come È riuscito Fuori oggi Ma era sta cosa Io l'ho sentita Porca madonna In contesti pure Inimmaginabili Ma non so Di che cazzo si parla E non ho mai visto La clip originale È giunto il momento Che è sta roba Dei limoni Che mi ha Cagato il cazzo Per anni Signore I limoni Non l'ho mai capita Non l'ho mai capita Cos'è sta roba Di limoni Perché ancora Non è Non capisci La sofferenza Del lavoratore Che sta là Gli fanno la domanda Se va a votare o no Votare è inutile Poi si accorge Il fruttarolo Che una signora Si è scordata i limoni Ma la rabbia Ancora della domanda La fa chiamare Proprio Con Il dolore dentro La chiama Con una rabbia Senti Poi ho visto il video completo Non sapevo manco De sto pezzo All'epoca Prima e poi Vi introduco pure una cosa L'ho detto perché Cioè questo nel periodo d'oro Cioè lo chiamavano Tipo alle fiere Ma davvero Sì sì Tipo il cazzo Non so se a Luca Comis Comunque tipo a fiere De roba Tipo cultura pop I limoni E c'è sta tipo Allo cantino Ho scritto Ospite signora Che roba Così è una follia Popolo non ci cacano proprio Quindi Non vale la pena Neanche a votare Non andate a votare Lo scorso 4 marzo Lei è andato a votare No io non voterò più Signora I limoni Signora Che cazzo Ma cos'è Oh questo remix da paura Vabbè ma me l'ha rovinato Cos'è sta cosa Lo senti il tono io No ma in realtà Se mi rompi A fine della frase Io non percepisco il tono Capito Mi interrompi il flusso Il tono era quello Perché ce l'ho Fa ride Ma signora Fa così Però non si capisce Signora La chiama con una sofferenza Che sta soffrire E' l'esasperazione Sì 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 Mi è piaciuto più Questo originale Ma che cazzo Quindi se non ti è piaciuto Il beat repeat Preferisci il pitch L'automazione dei pitch Vabbè ci può stare Insomma bello 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 Comunque volevo fare un test A Simone Se di sto che dice Continua a dire sta cosa In check Niente proprio nessuno Che il Mac non lo fa ride Facciamogli vedere il video Guardiamo tutti Simone Per vedere se ride Se uno mi ride Ah tu dici Ah no vediamo Vediamo Non è che se una cosa No io non è che Allora se una cosa Non mi ha mai fatto ridere Non è che non mi farà mai ridere Grazie Wiggy Mo vediamo Sicuramente per la regia Dei Pantellas Mi farà ridere Ah già sta mettendo I mani avanti eh La regia Che sono dei grandi registi eh Infatti Sono dei grandi artisti Sì sì artisti sì Grandi attori però eh Grandi attori Sicuramente meglio che registi Anche perché la regia Non ne sa che non la fanno loro C'erano tipo un operatore Un amico Vabbè andiamo Ma hanno un team Buongiorno Ma questo è quello di TikTok Il Mac Buongiorno agenti Minchia che culo Patente e libretto Entra Ma chi? O non entra Cosa? Ma il suo trapezio Ma che cazzo me ne frega A me del trapezio Patente e libretto Subito Non penso proprio E allora multa Ma poi come si chiama lei? Mac Mancano tre e quattro cartucce Poi è finito eh Beh le idee chiare Vabbè Beccatevi sto cigno Anche le anatre Anche il cigno Eppure il cigno l'ha detto Già stiamo entrando un po' nel cringe onestamente No vabbè Lui c'ha il trapezio C'ha il cigno E poi bah eh Poi le altre cose girano intorno Ha sparate Ha sparate tutte No ci potrebbe da qualcosa di innovativo Potrebbe crearla sul momento Secondo me Capace che crea qualcosa Ma ne crea uno qua Secondo me ci stupisce Andiamo Una pronta nuova Sì 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 Sicuro Io vado eh È finita la soundboard Scrivono Se ci siamo io vado Secondo me non sentiva bene Simone Per quello non rideva Magari gli arrivava No ma stava ride Ma c'ha pure le cuffie Ah sentivi Perché quelle sono le sue armi Sono le armi più potenti che ha Ha fatto il cannone garlic Come cazzo si chiama Ma però bah Ha fatto Ma non è che Quelle Il moveset è quello Mazza Complimenti Vediamo se ne è già ancora Vediamo se ne crea un'altra Siamo pronti anche in chat Ditemi un po' Non penso proprio Entra No 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 In chat No qualcuno non è pronto Aspettiamo Entra 19 Entra 18 17 Andiamo Agenti Cosa fate stasera Non quello che farà lei Fragole, panna e champagne Fragole sotto la luna Ma anche Questo è un pezzo di Lauro e Rosby Line Non è male Che genio Lui canticca le canzoni del momento Però col suo tono Che finisce sempre così Perché Perché non chiami mai Così Se possiamo dire È un pomata del nord Italia Un pomata che ce la fa Bravo Ma infatti queste cose A me fa anche ride Perché sono cose che Ritornano pure da Persone di altre generazioni Che alla fine Significa parlare normale Ma con un tono comico Un po' come facevamo io E E' un pomata No Che ogni cosa Che ogni cosa Facevamo così Penso Se l'avete inventata voi Sta roba del Mac Secondo me è una cosa Che ha Qualsiasi essere umano Perché io Non sai Sì le volte Che l'ho sentita Da persone Che non conosco Perché non potevo conoscere Ma che comunque Avevano quella cosa Ci avrà un nome Che E te devo dire Secondo me significa Fare il coglione Come è possibile Lui si è calda Semplicemente Tipo quando vuoi fare il coglione Devi giocare con la voce Finisci O a fare così O a fare così Per giocare con la voce Stanno due metodi Anni di beatbox Proprio buttata C'è gente che fa due voci con te Cioè per giocare con la voce O fai così O fai così Ma dai Quanti ne conoscete Non ci sono altri modi La voce Sono quei due Jim Carrey Ho 800 voci Ah beh sì No Jim Carrey faceva pure così Pure Jim Carrey Io facevo ogni tanto Adri Ma pure Cristian De Sica pure Abbe Aspirata pure Se ci pensi Pure la canzone Muove la colita No Muove la colita C'era Ah sì Ah sì Oppure Ah sì Che era sempre lo stesso Che era sempre lo stesso Dicono che era il pomata A farlo quello Da quanto ho sentito Se tu leggi No Sapete che è uscito Il nuovo rile del pomata Ah sì Però io non Di cosa parla? Dice che a quanto pare Ha litigato col poeta di strada E spiega le ragioni Grave Grave Chi ha litigato col poeta di strada? Il pomata Ci hanno avuto un alterco Oddio Tra luminare Ma che padre Ma che stronzata è Ma sai lì Magari faranno pace Però perché Oh mio Dio Guarda quanti sub Stiamo Oh my god Guarda quanti sub Stiamo Regà 7979 Sai che mi piace Puoi fare Uno screen Marco Peraltro Ne mancano 21 Agli 8000 È un po' Che non stavamo A 8000 Ma li vogliamo fare Questi 8000 A 8000 Reel Del pomata 7979 Non penso proprio Vai Salvato Dai Ci siamo Altrimenti Non lo vedremo Ma io Me lo vedrei solamente Se Simone Insiste Ok Solo Solo in quel caso Solo in quel caso Non lo finimmo il video del Mac Certo No no Oppure ti potrei rispondere Non penso proprio Sai che per far il suo meme Devo dire no a tutto Perché non penso proprio A me fa troppo Io voglio vederlo Voglio vederlo il video del Mac Quei Pantella Sì sì Addio Arrivalo Pantamoraglis Attenzione No attenzione Però Ok No dai Ma dai Ma la vogliamo staccare Da lì Ma pure Euda Grazie Euda42 Grazie Amoroso No 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 Il calcetto Si è visto il movimento Che è stato stato di piattone C'è un Elcigno C'era Ok Ok A posto Dai finiamo con il video del Mac Ma anche sotto gli acidi Bambolina Non mi chiami Bambolina Solo mia mamma può Domani torno da te Ma sia a casa Per l'amor Ma pensa se Nictus E nessuno lo aiuta Ridono tutti Dottore Mi sento bene Mi sento bene Dottore per favore Dottore no Sto male Sto male Sto male Guarda che Non sta bene Sto stoffocando Sto stoffocando Sto stoffocando Sto stoffocando Per favore Per favore Grazie per gli 8000 Comunque E tutti ridono Cioè Ma abbiamo raggiunto Gli 8000 Comunque Sì Ma prima te lo finiamolo 8000 Certo Bu Questo signor Mac Windows Glielo diciamo Per l'ultima volta Ci dia Patente E libretto Non penso propria Ma gliel'aveva già detto prima No Però ha detto male La musica che aumentava Capito Ha detto male Troppo serio Non penso propria Non penso propria Ma non ha finito E allora la dichiaro in arresto Ma lo fa un po' Di libretto C'era un po' Non penso propria E allora la dichiaro in arresto No Non mi è piaciuto Entra o non entra? Entra Giro si preoccupi che poi entra Entra E non entra E che ha riso Vabbè Come fai? Non ride Dai come fai? Non ride Basta guardare Guarda che scena Una palese citazione biblica questa La passione del Mac Questa è l'evocazione La passione del Mac La passione del Mac Che sto vedendo È bellissimo Vabbè fa ridere l'espressione che fa lui Un po' Quell'espressione ranoide Oserei Diciamo Fa poco ridere Sono immagini che puoi sentire Pure senza audio la sentiremo Che succede? Ho il dengue Non entra Entra o non entra? Entra o non entra? Non entra Non penso proprio No La terza volta Regà Grevissimo Stanno scarseggiando Stanno scarseggiando Un minuto e trentasei secondi Un minuto e trentasei secondi Questa è ictus vero Proprio Buongiorno Patente Eh ma questi sono i caricamenti Vedi già il calo della qualità? Un minuto e quaranta Sì sì ma se vede Sto bambino mo va all'università Ma se vede che sto video è stato tipo scaricato e riscaricato Ha perso tipo la qualità Esatto Un minuto e quaranta di contenuto originale Poi venti minuti di upload Ma questi sono dei geni di youtube Sì questo quando andavate in moda la tizia del corsivo Eh sì perché tanto C'è allora uno Ovviamente cattura l'attenzione di un tizio col contenuto nuovo Col tizio del momento In questo caso il Mac E poi uno spera che lasci la televisione accesa Il computer acceso E te guardi tutto il video Sì però c'è il rischio che ti distruggi il CPM così Perché la gente come si accorge che è roba vecchia Ma no a questo punto levo C'è gente senza memoria Potrebbe essere un autocollo clamoroso Però ti posso dire una cosa Secondo me questa azione viene per l'appunto Da sta roba che hai detto te pure Cioè se il canale c'ha un CPM così basso Che uno dice minchia devo lavorare per un contenuto originale E poi la gente se ne va dopo due minuti Schiaffi un contenuto di 20 minuti E metti originale a inizio Cioè in realtà potrebbe essere Sia un rischio come hai detto tu Ma se quella cosa esiste già Sarebbe un'ottima tattica sai Quello che ti chiedo io però Secondo te una persona che magari Per il loro tipo di canale Per il loro tipo di canale no Che magari appunto Ormai Riescono a fare magari un minuto e quaranta Di contenuto originale Ma poi sicuramente ci verranno mille altre cose da fare Immagini Pantellas Ma non lo so Però proprio per come funziona YouTube Con i contenuti brevi A loro non converrebbe minimamente Caricare un video Di questo formato ormai Neanche in verticale Di un minuto e quaranta Ormai è un suicidio Pure se avessi un watch time del cento per cento Perché chiaramente se lo finiscono di vedere Non ci guadagni niente Neanche viene consigliato Perché YouTube premia i video Che fanno rimanere la gente sulla piattaforma Quindi i video più lunghi Quindi per tutti questi motivi Uno può scegliere di attuare questa strategia Calcolando i rischi e le perdite Ma andandoci comunque non in perdita Secondo me c'è stata un'altra domanda Cruciale Allora se uno non guarda la copertina Ma per caso fa Adesso anche nella Quando tu stai nella sezione ricerca Puoi scorrere la barra un po' Per caso guardi al centro e ti accorgi Che è una roba che hai già visto Ma secondo te Un utente medio Lo chiede a Gianluca Perché tu guardi queste robe Se entra nel YouTube Secondo te entra? Non penso proprio Ok Possiamo concludere questa fantastica gag sul Mac Ti è piaciuta Simone? Non penso proprio Voilà Perfetto Perfetto Allora abbiamo detto pomata Ok Pomata Quindi Simone insiste? Insiste Simone Ah ma questo era Ah ma su questo devo insistere pomata No Io penso che sia una cazzata Hanno detto 8000 sap Però vedi Simone Poi c'ha ragione Allora a gente che il 2015 Te diceva che parli Però non te vedi il video Come Stai da ragione a gente del 2015 Così eh Ma chi è del 2015? Nel 2015 Nel 2015 Ma io neanche esistevo nel 2015 Accuse del 10 anni fa dice Sì sì Di 5 anni Tu ricordi Storm Stormfront Chaser Che ti diceva Che non guardavi i video E mo questo qua Ne hai visto e parli Allora c'ha ragione Storm Chaser Sì Greve C'ha ragione C'ha ragione Ma lui ha sempre avuto ragione Se ci pensi Ma sai che ci sta ancora Poi non so come mi è venuto in mente Non so come mi è venuto in mente Però volevo da un volto autorevole a questa gag Ma a me è apparso tipo un po' dei giorni fazzi uguale Ma io ho uno che si chiama così e darei ragione Nel dubbio È stato il primo che ha fatto vedere la faccia mia Però l'ha fatta vedere Per una sua Come posso dire Un suo difetto nativo Ah C'è un nome da gruppo Power Metal Gli Storm Chaser Sì Batterie velocissime Di assoli Di Dragon Force Bello Io parto prevenuto perché So come si comportano entrambi So che probabilmente è una cosa organizzata E che Non vale proprio il nostro tempo Ma ti posso dire una cosa Probabilmente Ti posso dire una cosa Che sia organizzata Non penso proprio Pur non sapendo Né a storia Perché non me l'ha raccontata Non ci ho parlato E neanche E non ho visto il video Ma so che avevano Se si erano allontanati Tempo addietro E c'era un po' davvero avvelenato Quindi Non so di cosa parli Non so niente Non so nulla Ma non credo che sia fake Allora secondo me Visto che si parla Questa è tutta una stronzata Giallù Perché Cioè È chiaramente tutta una storiella Per dare hype Adesso a Erpomata Con sta cosa No 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 Tu stai Tu stai invogliando la gente Ad andare a vederlo Stai mettendo curiosità No 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 Non so di cazzate Cioè Aveva Se sono allontanati Non so più amici Ma chi se ne frega Chi se ne frega Ma è tuo amico data sempre Ma una stronzata Lo sei pure tu Gianluca Ma cosa stai dicendo Innanzitutto Lo sei pure tu che è una storiella Del cazzo Ma che stai facendo Vogliamo rimanessere No Non so più amici Non so più amici Ma raccontate Ma cosa stai dicendo Oh ragazzi Ma hanno scazzato Ma quando sono stati amici Vabbè Hanno scazzato E non si sentono più È una stronzata Perché stai avallando Questa storiella Che serve a loro Per fare i contenutini Del cazzo Posso parlare un secondo Vogliamo rimanere in serie Innanzitutto Si sta parlando Di persone che hanno litigato C'è stata anche una mezza rissa Quindi anche un minimo Di rispetto Perché è successa Una cosa grave Quindi Simone sa tutto Ma ride eh Ride Simone Complimenti Bravo Ridiamo allora La vita è una barzelletta Si ne erano I bambini In Africa Lui ride Lui ride Perché tanto è facile Non ride No scusate Dico Siccome sarà una cosa greve Alleggeriamo prima Con un paio di tiktok Interessanti Poi dopo ce lo guardiamo E torniamo seri Torniamo seri Stavo scherzando Simone Non ti preoccupare No Io sono serio Sarà sicuramente Una cazzata Che io neanche guarderei No Però Mi hai raccontato In privato lui Già tempo addietro Non dico per quale Motivazioni Hanno scazzato Non si parlano più E poi Seppure che si sono Organizzati E c'ha ragione Simone Ma non avendo Lui Ma ricate sempre In quelle cazzate Che abbiamo sempre criticato Che ci devono Cioè io C'ho scazzato Quindi devo fare L'instagram E il tiktok Quello che è Sperando che va bene Quello è il mio contenuto Vabbè su questo C'hai ragione tu Su questo c'hai ragione tu L'unica cosa che volevo dire È che secondo me Non si sono messi d'accordo Perché hanno scazzato Poi quello che stai di te Rimane Io posso comunque Fa un tiktok Con quegli intenti lì A prescindere Che l'altro sia d'accordo o meno Non è che Nessuno me lo impedisce Rubino Ovviamente dice Se lo facevo io Simone diceva la stessa cosa Per me è un principio Sì Certo Quindi ti sta dando Dell'imparziale Sì Io me lo facevo di Vabbè grave No no ma Ci sta Cioè Me l'accollo Ah ci sta Madonna Madonna Non reagisce mai Oh ti ha detto Imparziale Vabbè Massa Abbozza Abbozza su tutto Simone Poi quelli che dicono Che io voglio Imporre il mio pensiero Io qua Questo devo fa Io lavoro Al cebro podcast Per dire il mio pensiero Con le mie modalità Ma che cazzo volete Cioè io Dico la mia Aspetta Perché Rubino risponde qua Dice no Gli sto dando ragione A Simone Sì lo so Può essere tu Dave Perché sei Un pantomimo Sei Sei un pantomimo No io ero convinto Che ti avesse dato Dell'imparziale Su questo Su questo Avevo capito male io Ero convinto Che ti avesse detto Che eri imparziale Su queste cose Però ce può stare Ma poi può essere tutto Può essere pure Che magari Se sono messi d'accordo Ieri è rimasto Che avevano scazzato E c'ha Ragione Simone Comunque è bellissima Sta cosa Che non ci toglieremo Mai la curiosità Perché A me viene a mente A me viene a mente Tipo L'ultima cosa Che avevamo detto Tipo a Erpomada Quando abbiamo fatto La live con lui Tutta quella storia E esci un po' Da ste logiche Esci un po' Da sto tipo Dei contenuti Perché sono Quello che sono Puoi fare tanto altro Lui sì 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 Poi Mi stupisce Che a distanza De un mese È sempre la solita cosa Ha litigato Con E basta Vabbè sta cosa Che stai di te È giusta E rimane a prescindere Dal discorso Che stavamo a fare Se stanno d'accordo Non stanno d'accordo Sta cosa che stai di te A prescindere E quanto me riguarda Rimane Ed è sempre quella Rimane attuale Anche in questo preciso momento Devo assurire la mia Invece Finite di dare ragione A riguardo Perché Tu mi dici Marco Che è sta frasina Del cazzo Volevo dire una cosa 10 minuti fa Che non mi hai fatto parlare E dillo allora Vai inquadri Avvicolaggio Camchitano Metti Camchitano Che non riguardi il regime cinese Te lo dico Stavolta No Me l'avevi detto Che ne hai posto di più Dicevo Magari C'avrei pure ragione Simo Ma vediamolo Per essere sicuro Cioè come facciamo A essere certi Al cento per cento Ma non è il fatto Che lo dobbiamo vedere Che dobbiamo vedere È il contenuto Capito Cioè andiamo a vedere Poi è sicuro Ma magari pure Che hanno litigato Perché ha finito il latte Se una merda Ma è finito il latte Che non so Ma vediamolo Vediamolo A sto punto A sto punto Vediamolo Eh dico almeno vediamolo Posso dire una cosa Io che sto cercando Di dirla da Da dieci minuti Perché lui Simone fa Secondo lui È tutto preparato Io dal canto mio Se posso dire La mia umile Opinione Ma sei sicuro Se si può parlare Se si può dire una cosa Ma sei sicuro Non lo dico Lo dico o non lo dico Posso dire Quello che penso io Il mio pensiero Non penso proprio Scusate Prima un video Che stempera La mamma poveretta Gli ha comprato Un'amichetta La mamma poverella Gli ha comprato La caramella La mamma preoccupata Gli ha comprato La marmellata La mamma disperata Gli ha comprato Gli ha cioccolata La mamma poverina Gli ha comprato Una cucina Gli hacchina Oh Non si fa così Gli ha comprato Gli ha comprato La mamma disperata La mamma disperata La mamma disperata Gli ha comprato E' bravo eh Ma non vedilo Poi con sta panzetta A pappagallo Sai che c'ha stile Ecco A pappagallo Un po' di difficoltà Pure la salma Di Gandhi Si può rimettere In posizione A pappagallo L'appoggi su qualcosa De ricurvo Sì sì Senza neanche utilizzare Il cadavere Di Gandhi Tipo Weekend col morto Come sempre eccessivo Per fare una gag Il 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 pomato Classico video Che si inquadra Petterano Vabbè uno dice No perché sicuramente Sarà footage rubato E ora che la gente Sa chi sei Poeta di Strada Gira in zona tua Non in quelle Degli altri Quando capiremo Che questa è l'arte Che ci meritiamo oggi Ci siamo Hashtag Poeta di strada Hashtag Influencers No aspetta Tornate sugli hashtag Per favore Sono molto importanti Hashtag Rissa Hashtag Incidente Hashtag Persona Hashtag Viral Giustamente perché È un video Virale Viral 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 P Pages Pages Hashtag Video Che non si confonda Con un libro Ad esempio Con altri mezzi Di comunicazione È un video Ma non sono tutti attaccati Poi Che funzionano comunque Io non lo so Ormai Sì Sembra di sì Ma guarda che è uno unico In realtà È infatti È un unico Anche alla fine Ragazzi Alla fine di sto video Arriva il Mac In qualche modo Io mi Mi denudo E mi cospargo Di Liquami In diretta Speriamo che non succeda Allora Vado? Vada Ci incontriamo Tu qui non ci potresti stare Io so dove mi pare Io so dove mi pare Sì vabbè Basta Ragazzi Dai Buoni Dai Ti fa tà affari tua Dai no Non mi faccia affari Tu qua non ci puoi stare Ma sai chi è quello che parla? No No Vabbè Ma è una cosa più finta De veramente Una banconota da 6 euro Sì è vero Ora lo posso dire Vero Non deflettere Gianlu È finto È finto Hai visto 8 secondi E per questo Visto che non ci sta la barra Dobbiamo riportarlo da capo Lo sai che tu qui Non ci potresti stare In questo posto Tu non parli così È vero E quando ti vuoi da un tono Hai visto il romano Quando ti vuoi da un tono Cominci a parlare in italiano Corretto Ma questa cosa Tu non me la dovevi fare Hai capito? Non me lo dovevi dire Però vedi C'avi torto Simo Il video c'è Comunque Simo Non è che è fake Questa è arte Capito? Cioè Devi entrare nell'ottica Di te Che questa è come la poesia Cioè Però di strada Non è che l'otello È fake Certo È l'otello Qui abbiamo dinanzi a noi Una pièce Quindi È moderna Moderna diciamo Un'arte moderna Un'arte moderno Perché non se può No Non se può Non se può A letto Leonardo Moderno Dai Però cerchiamo di guardarlo Nella sua interezza Perché un reel è corto Nella sua interezza Allora Prima che fai play Già Il tono di voce Del Di Bruno Mi sembra Altamente recitato Conoscendolo Poi io Che ne so Tu l'hai visto recitare Cioè tu sei stato Un suo spettacolo Quindi sai come recita Bruno No Ammutolito Greve È vero Distrutto Attenzione Eh ma c'è ragione Dave Simone Cioè ma non è che Posso rispondere veramente C'è molto da dire L'ho visto al lupus Lo vedo al lupus Ogni mercoledì Recitare Mi provo Scusa Mi ha annichilito io No c'è ragione Però lupus potrebbe essere Molto più la realtà Di determinati È più bravo al lupus No È reale paradossalmente lupus Allora distrutto Simone Annichilito Tu lì non stai recitando Capito Stai Stai ingannando Più che altro È un po' Diverso Invece quando stai davanti Una telecamera Lì stai a Recitare E dove si fa lupus? Davanti a chi? Davanti le telecamere Però avviene un mood Allora distrutto io Avviene un mood Che non è paragonabile A quello De Sto a fare un reel Se me Stanno a ripiare Sto a fare una pantomima Capito? Hai ragione Gianluca Mi hai distrutto Mi avete distrutto Ho torto Ho torto match Ne usciamo entrambi malaccio Da questa cosa Entrambi distrutti Alla fine Vince solo Gianluca Ma in realtà Guarda Ma secondo me Vince solo Erpomata Che gli stiamo a vedere video Beh gli stiamo a levare un sacco Di visualizzazione Però Stiamo creando il caso Ha litigato Vai facciamo finta che ci interessa Ha litigato col poeta di strada Oh Gli ha detto che non deve Gli ha detto che non deve più stare là nel quartiere Oh Oh No Che succede? Vai Mote E mo ce lo vediamo tutto E' asceso E' asceso Vai mo ce lo vediamo tutto E poi dopo facciamo le osservazioni Ok Andiamo Io vado eh Però dobbiamo guardarlo tutto Chat Tutto ok chat Ok Ok Se poi lo ne guardiamo Stanto un pezzo Lo interrompiamo Non c'ha senso Quindi o promettete tutti Che lo guardiamo Ho spento i luci Già ci siamo Ok Marco Ho pure spento i luci Siamo pronti? Tipo scuola Quando portano a dipuntare Aspetta no Le devo spegnere pure io Vai E tanto c'è il gris screen E' già nero dietro No no Mettete i cellulari in modalità aereo Ovviamente chi non ci sta guardando a cellulare Altrimenti si interrompe quello che guardate Vai Andiamo? E' tutto pronto E' tutto pronto? Io vado eh No aspetta Vai Forse dobbiamo raccendere le luci Ok 3 Ok 2 1 e mezzo 1 Scusate è partita così Scusate Let's fucking Go Tonight To watch The video Of this clip Mr. Lotion No bisogna andare da capo Perché ce l'ha parlato sopra Eh ho detto Mr. Lotion Secondo me Il promato Bruno dovrebbe andare a Las Vegas E farsi chiamare Mr. Lotion Sì Il pomato Anzi Ah non è mister Perché R è R è The Lotion Che suona pure meglio The Grease pure The Grease The Lotion Dai ci siamo? Ah infatti no Da Scritto D-A Perché 3 sarebbe corretto Sarebbe il Mentre R è slang Quindi Da Lotion Bravissimo chi l'ha scritto Da Lotion Bravo bravo Bellissimo Se volete da qualche altra interpretazione Per il nickname del pomata in inglese Prima che partiamo Qua sennò io parto Mi venite Lotion Anche ZA Lotion ZA Lotion Checco ZA Lotion Vado? Io vado Ci incontriamo Tu qui non ci potresti stare Io so dove mi pari Io so dove mi pari Sì vabbè basta ragazzi Dai Buoni dai Ti ho fatto affari tua Dai no no Non mi faccio affari niente Tu qua non ci puoi stare Dai È una persona È una persona più grande Porta un po' di rispetto Dai Sei qua al quartiere tuo Manco porti rispetto Eh ma se lui non porti rispetto Io porto rispetto A chi dove rispetto Ma che era? Che stronzata Ho visto che fai quarto Io ragazzi Mi scuso con tutta la chat Perché ovviamente Simone ignora Che su Instagram Non c'è il modo Per poter Mandare indietro Con la Non c'è secondo me No non c'è Però io non lo so fare Non si può Quindi siamo postetti A rivederlo Scusate No no lo so Capisco Capisco Vai Però non ce l'ho fatta Non è la prima volta Che ci incontriamo Tu qui non ci potresti stare Io so dove mio pario Io so dove mio pario Sì vabbè basta Ragazzi Dai Buoni dai Ti ho fatto affari tua No no Non mi faccio affari niente Tu qua non ci puoi stare È una persona più grande Porta un po' di rispetto Dai Sei qua al quartiere tuo Manco porti rispetto Eh ma se lui non porti rispetto Io porto rispetto A chi devo rispettare Ma che sto perso Sta buono In realtà Ma ce penso io Fra qual è il problema Eh ma ti faccio rivelo Quei Quei crei Ho visto che fa il coatto te Fra Fra che cazzo devi fare Oh Ampazzito Cazzo Ma che è No vabbè Ma il suono l'hai messo te No C'era già Io l'ho messo Ma se ne è sentito uno pure Che non era Bro Allora Il suono è chiaramente esagerato Questa cosa è ridicola Ah sì Cioè È una poesia di strada Non riesci a capire È ridicola nella sua proprio arte Capisci È ridicola Facendo una macchina tua È ridicola È neorealismo questo Cioè proprio È Pasolini È Pasolini che si reincarna Ovviamente No vaffanculo È l'arte che ci meritiamo oggi Dite le vostre stronzate Io ho solo cose serie da dire Cose reali che penso Se potremmo dire Oh È arte È arte Perché in realtà è una cagata Diciamo che è arte È cronaca Simo È cronaca Ma che cazzo dici Simo Ma mo Variti le stesse cose a Story Impact Vai Cosa Ma io dico veramente cosa penso di Story Impact Che è un prodotto Che è organizzato Ma pure Story Impact è organizzato Simo Ma vaffanculo Ah Ti sono finito le tue armi Simone Ma pure Story Impact è organizzato Magari è scritto prima Ah Simo Dai veramente Oh me fai rosicare Stiamo cadendo nel ridicolo Non ce lo possiamo permettere tutto ciò Stai infangando il lavoro De persone che documentano Quello che succede Come Story Impact Ah è un reality quindi Certo che è un reality Ma vabbè Perché stiamo sempre nelle stesse location Perché sono chiusi là dentro Porca trota È vero Ma io veramente Su sta roba Allora Un conto Se vogliamo fare lo show Il Cerbero Le marionese Cerbero Fa per se è un conto Però regà Se dobbiamo ogni volta Staccare il lavoro Della gente Che cerca di portare a casa Un contenuto decente Io mi rifiuto Te lo dico Non vado avanti Cioè per protesta proprio Beh c'è pure Rubino in chat Rubino pure l'aveva fatta Una cosa così Con poeta Oddio Della palestra Chi è? Au Ha preso Si è trasformato Si è mappezzito Che cazzo è successo? Oh Simo Bella regà Au Che fate? Che dite? C'è una bella cera Eh sono un po' impallidito Lo so Ieri ho mangiato una cosa Che mi ha fatto male Mannaggia Ti vedo che non Ti vedo al top Perché stavate a parlare Del video di Erpomata Che ha litigato col poeta di strada Oddio Gli ha detto Che non può più andare Nel suo quartiere Oddio Lo vedo strano Qualcuno deve fare qualcosa Io era Vuoi Vuoi andare tu In queste vesti? Ci penso io Ci penso io A far fare pace C'è Erpomata E poi da di strada Ma non devi Fa pace Devi andargli a menà Ah vabbè Allora Guarda Che sono fortissimo No 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 Bassa quel braccio Si calmi E poi Quando vengono Posseduti così Dientano pericolosi Stamattina È stato citato Sei un po' pazzito Dov'era? Per adattarsi Io credo Che come avete detto Anche voi del cerbero A Erpomata Questi contenuti Non vanno bene Sono altamente dannosi Danno un esempio Sbagliatissimo E uno che dice Che deve dare il buon esempio Che è padre di famiglia Non dovrebbe postare Dei video dove Prende a pugni Il vetro Di qualcun altro Per una cosa finta In litigi di quartiere Organizzati Solo perché Non sia un cazzo da fare Questo penso Sei proprio un po' pazzo Gliel'avete anche detto Voi ragazzi Gliel'avete anche detto Mai detto Non penso proprio Mai? Mai? Ah no Mai? Non gliel'avete mai detto? Ucciso Ah no E allora me ne vado Vabbè Ciao ragazzi È stato bello No Dai no Non riesco a essere serio Ma mi sta da pia per culo Cioè Entra Entra Non penso proprio Non penso proprio C'ero anche io Insieme al pupazzo Ma che succede Ma che era Quel video? Quale? Lo metto in mezzo Oddio No no La stacca un tai Dammi cos'è No Che squali Stati arrivà E no Croccia Non Non Sentre Sentre Ma ... ... ... ... ... ... ... E' un mio figlio del Gart E' un'asturna